allora ragazzi ho un casino di energia vi ricordate cosa abbiamo fatto l'altra volta qui su youtubers life c'è arrivato un nuovo gioco dietro pagamento da un amico per il quale dobbiamo fare un gameplay e adesso vediamo perché dovrei averlo qui fail out bello questo nel fall out nel vault fail out nel vuot cioè si casca va bene gameplay start video abbiamo un sacco di energia adesso facciamo un video proprio di quelli epici ragazzi entro st'episodio mi voglio trasferire con la tipa però è perché basta adesso sono due puntate che che non ci riesco lasciamo tutto così allora fail out facciamo esplodere il vault perfetto allora è che palle perché c'è il copyright ancora da pagare ma che balle questo altri 9 dai un altro paio di carte dove riuscire a buttargliele questa e mi rimangono cinque ultima carta due magari ne metto anche un'altra faccio un video della madonna proprio vai ancora no non mi da più la possibilità ecco qua next finito allora solita storia qua li metto tutti adesso che c'ho 15 rendering points qua cerchiamo un buon ordine che non è questo ma è questo probabilmente o forse addirittura questo non cambia molto perché c'è un coso rosso però questo qua poi diventa perfetto quindi o in effetti lo farei dai facciamo esplodere il vault qualità boom 119 mamma mia il super mega editor editor quello che edita sarebbe vabbè publish video ma certo ma ci mancherebbe che ok l'ho fatto ecco share apartment si fa qua e però mi servono quei soliti 160 dollari che adesso secondo me anzi moseve dico andiamo a lavorare a lavare le macchine ma è così ci rubiamo i pezzi tipo dei mercedes rubiamo le i cosi la come si faceva una volta no non lo fate ma che vuole questo ecco io c'ho da fare whatsapp che c'è du abbiamo una festa stasera sono sicuro che ti vuoi divertire ma perché si chiama angelina se c'ha la bar angelin si chiama angelin quella si vabbè ok però non stai tanto bene in qualità di angelina ho preso mi ero dimenticato di da di fare ancora studio meno male che negli scorsi episodi me l'ero preparato abbastanza benino sono riuscito a prendere c più lo stesso dove andato frosty qua questa è contenta per il video noi ci prepariamo per la festa ci ha dato un sacco di soldi ragazzi andiamo alla festa intanto poi ci trasferiamo ma prima a cuccare alla festa che palle ancora il copyright qua paga ma è la solita festa quella dell'altra volta siamo già stati mi pare non sto neanche più tenendo d'occhio il canale perché comunque mi pare che ormai abbia preso un un suo non c'è la ragazza quella di quella volta mi farebbe tanto piacere di vederla come si chiamava non la vedo però perché avevo vista da lontano era carina bellina vabbè vaffanculo ma è un altro il posto vabbè andiamo da da ste due salve che c'hai a mano ah no sembra un microfono è un bicchiere dakota bello il nome dakota ma io non ho tipo strumentazione per fare vlog in mezzo al bordello qua vai dakota bla 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 che planet was cut 2 it's not the best game ma parlano tutti di giochi c'è questa fine a community praticamente solo di gamer anche le ragazze cioè non è che oggi vado a farmi le unghie vado a comprarmi una borsa no il gioco più bello e marzo è proprio un mondo bello vabbè sentite ciao basta sono venuto giusto per darmi in qualche area ma io c'ho da fare qua noi siamo gente che lavorano guardate sta salutando la mamma sta salutando la mamma infatti venuto fuori sembra che sia tempo di trasferirsi e quindi non si va qui ok no questo ti dice solo come si fa ma si fa da qua perfetto ha capito dice ci sono nuove case disponibili forse anche altre che ci permettono anche una migliore connessione una fibra più veloce quindi per caricare i video più velocemente eccetera eccetera però bisogna stare attenti e al riuscire a pagare l'affitto io ci provo speriamo che l'affitto non sia troppo che vuoi mamma a questa era per l'esame a rompere i coglioni tu est esame ho preso c più passato è più che sufficiente io non sono un tipo da o bella è davvero bella comunque la stanzia mi piace sto letto col col coso che gira e c'è il divano di spalle lì questa è la tua stanza ho scoperto che posso fare di youtube in cioè fare lo youtube come come lavoro sta dicendo insomma mi sto dedicando interamente a youtube ho fatto 50 mila iscritti e non ti preoccupare che morri vamo pure noi 6.002 6.002 questo mi sta a raggiungere sta raggiungendo il vero nusto figlio di merda sta veramente andando forte ok ci sono anche altri compiti oltre a registrare non fare un cazzo giustamente si va bene giustamente non ci sono più le regole di g basta oh bravo puoi fare quello che è open your fridge eat sandwich che è qui il frigo cioè ce l'ha in casa mamma mia vecchio però un po di vita cioè almeno il frigo mettilo in cucina non nella stanza what do you want voglio che ti levi dal cazzo ci sono tre sandwich ed uno rango tango due piccole coca cole un'anquila reale lo spaghetto di ieri sera che ormai sarà marcito adesso però levati dai coglioni raggiungi 50 mila iscritti ok il nostro nuovo obiettivo ecco perché non mi fa fa niente questo vuole ok impariamo a fare la spesa cliccando sul frigorifero va a fare la spesa cliccando sul frigorifero va a fare la spesa nel pc senti uno due tre quattro cinque e sei noi siamo gente che abbiamo fatto la spesa adesso ti levi stiamo di essere organizzati ragazzi la prima casa bisogna ok si possono si possono fare dei corsi dei corsi sì esatto che però costano adesso non esagererei con lo spendere soldi perché non so neanche quale l'affitto qua meglio stare calmini vedo un bel balconcino questo posto mi piace tantissimo e lo inaugurerei con un bel video prima di lasciarci allora new gaming video c'ho due giochi a fail out già andato a fanculo e questo proprio insomma no 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 e ormai ragazzi il nostro canale un canale di qualità quindi toccherà toccherà e oddio guardate quanto hanno già tutti i negozi tutti i cosi sbloccati adesso bisogna investire qualche dolla ruzzo ecco plan the world su questo è quello che ci aveva detto quella ragazza nel locale che evidentemente un gioco che va adesso e quindi c'è hai passato tutto il giorno a fare a plori non ti stanchi mai però per quale motivo tu stai usando il mio pc che hai fatto ai timida mi ha scritto ci vediamo stasera alle due di notte nella mia stanza però si vergognava dirmelo in faccia me l'ha scritto sullo sfondo del pc infatti lui è rimasto piuttosto traumatizzato devo dire mamma mia so ragazzi so ragazzi allora prendiamo un nuovo gioco qua new gaming video dalla nuova stanza ragazzi questo gioco qui ok 93 abbiamo preso proprio nuovo anche se già sta calando ma la tipa ci aveva consigliato quella nel locale di farci un bel video perché è bello planet wars cutter 2 non posso scrivere in ricordo di una f perché poi questa f che abbiamo in casa noi si incazza quindi andrei sul banale visto che ci siamo trasferiti gameplay dalla nuova casa speciale no speciale no vai ancora con sto copyright ma perché me lo fai me ma scusa ma rompi proprio i coglioni ragazzi ma che è sta cosa del copyright che esce tutte le benedette volte tutte le volte esce sto copyright perché 4 ma è finito il video che cosa c'è lì nell'anteprima una donna un culo gigantesco basta finito next è ridaglio con sto copyright ma sarai rompi coglioni però sto video è perfetto mancherebbe un ultimo pezzettino ma quelli arriveranno immagino con più energia eccetera qui come al solito ci stanno tutti e tre e noi li sfruttiamo vediamo la qualità che abbiamo raggiunto ecco infatti è la misera 157 ormai siamo roba di qualità ragazzi è un canale di altissimo livello le anteprime del video sono sempre quelle però va bene lui è bravo che è che te piagni ah c'ha sonno ma come la festa stasera eh amore mio io sto morendo cioè madonna ma come faccio a dirle di no ci rifletto ragazzi ci rifletto un attimo e intanto vi saluto perché è stato un bel episodio intenso anche questo nel prossimo scoprirete se ho deciso di andare alla festa ah ma eh no ci vado questo si è riposato ma varrà lo stesso non lo so lo scopriremo ragazzi vediamo cosa è successo nel prossimo episodio voi come al solito continuate se avete suggerimenti a dirmi che ne pensate continuate a divertirvi possibilmente come faccio io con sto giochino perché alla fine questo è divertente niente di che niente di più è una specie di droga una volta che inizi e prendi la mano poi in questa nuova stanza bello bello ragazzi mi raccomando con i commenti ci vediamo sotto al video c'è anche la descrizione con tutti i miei social altri video eccetera eccetera tutto quello che sapete già non tutti però perché magari arriva anche gente nuova trovate sempre tutto in descrizione io vi abbraccio come al solito e ci vediamo bello intanto questa si è rimessa qua al mio pc mo che stai scrivendo domani ciao 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 ciao